Dalla montagna alla città, un esemplare di lupo finito in centro a Verona ha rischiato di morire, ma è stato salvato dai vigili del fuoco. L'animale, che inizialmente era stato scambiato per un cane, era finito nel corso d'acqua nel quartiere di Ponte Florio in città. Sicuramente stanco ed esausto, era finito a ridosso del fiume, riuscendo a fermarsi su dei rami di fico nei pressi di una spalletta in cemento di una cancellata. I vigili del fuoco, intervenuti insieme alla polizia provinciale, dopo aver tagliato la balaustra, sono riusciti a raggiungerlo e con destrezza lo hanno portato sulla strada e sistemato in sicurezza all'interno di una gabbia. L'animale è stato preso in cura dalla polizia provinciale e dopo le cure sarà liberato sui monti della Lessinia, da dove si pensa sia arrivato.